Dopo il pesantissimo 4-0 subito dalla Germania, il Portogallo sembra ancora sotto shock. A preoccupare i fedelissimi della Serezao, i problemi al ginocchio di Cristiano Ronaldo, Beto però rimane positivo prima dello scontro con gli Stati Uniti. Sconfitta, difficile da digerire. Dobbiamo però rimanere umili e capire cosa abbiamo sbagliato in partita. Abbiamo fatto anche cose buone, ravvoleremo per migliorarle ancora, in modo da presentarci alla gara contro gli Stati Uniti al massimo. A questo punto dipende tutto ed esclusivamente da noi. Per lo scontro con l'11 di Klinsmann, a complicare le cose il gran caldo e l'umidità di Manaus. Il portierone del Siviglia non sembra preoccupato dal clima della foresta amazzonica, molto diverso da quello del ritiro di San Paolo. Le condizioni climatiche sono quelle che sono, per noi come per le altre squadre. non sarà semplice né per noi né per le avversarie. Penso che sarà un problema per tutti. È un problema che è comune a tutti. Stiamo perfettamente satisfeiti con le condizioni che abbiamo. Con il locale che fu scoglito. Non abbiamo problemi col posto che abbiamo scelto per il ritiro. Non sarà affatto un problema. Inoltre, per quanto ne so, gran parte delle squadre hanno scelto questa regione per il ritiro. La parte delle selezioni scoglierono questa zona del Brasile per fare la sua concentrazione. Con l'ossenza CR7, gli uomini di Paolo Bento dovranno cercare la vittoria a tutti i costi. Qualsiasi altro risultato vorrebbe dire la prima eliminazione ai gruppi dal Mondiale Nippo-Coreano del 2002.